Onorevole Luigi Gallo, amministrativo 2023 nel comune di Torre del Greco, qual è la posizione in questo momento del Movimento 5 Stelle? Siamo i primi a mettere al centro l'agenda per la qualità della vita dei cittadini. Questa è la nostra piattaforma con cui ci stiamo confrontando con i cittadini ma anche con le forze politiche. Tre punti mi piace ricordare, quella sui trasporti pubblici, quindi ridurre anche l'inquinamento in città, quella sullo sviluppo economico e del lavoro attraverso turismo e cultura e quella che riguarda la legalità, un patto della legalità con tutte le forze che vogliono confrontarsi con noi. Di recente una conferenza stampa proprio per affrontare questi temi. In questo momento guardando i vari schieramenti politici, il Movimento 5 Stelle dove si colloca? Noi siamo da sempre, da un po' di tempo, con la presenza di Conte nell'area progressista e quindi ci rivolgiamo a quest'area. Naturalmente il primo appello è ai cittadini perché dobbiamo dire che i cittadini spesso, lo abbiamo visto anche nelle ultime elezioni, hanno difficoltà, non vogliono presentarsi neanche a esprimere il proprio voto. Noi non crediamo di esprimere il voto, io crediamo di partire prima, cioè un impegno personale che vada oltre la lamentela o oltre il giudizio delle forze politiche in campo e dei protagonisti perché noi abbiamo una squadra di 40 professionisti tra avvocati, cancellieri, educatori e insegnanti che sono messi in prima linea. Però questa squadra di 40 professionisti può crescere in città e deve dare una spinta importante per un protagonismo che porta al cambiamento. Questa città da cosa deve ripartire? Siamo di fronte alla fine naturale del mandato del sindaco Giovanni Palomba, lei cosa ne pensa del suo operato? Noi siamo stati all'opposizione di Palomba come di Borriello e quindi sono dieci anni che ci opponiamo a questi governi della città che non hanno garantito niente ai cittadini, né risorse né un cambiamento. Per questo oggi per noi è la spinta, dieci anni di lavoro sul territorio amministrativo, ma siamo come forza sociale da ben più anni sul territorio, per fare un'agenda di governo. Appena si insiederà il nuovo governo in città vedremo tagliare il reddito di cittadinanza a diversi soggetti, persone che non avranno né il reddito né il lavoro. Noi crediamo che parte delle risorse che ci sono nel comune vadano affrontate per dare una risposta alla povertà, ai servizi sociali che sono devastati, ma anche alla costruzione di opportunità di lavoro attraverso la formazione e dedicata alle professionalità che si possono spendere nel nostro territorio. Lei prima parlava di legalità, in questi termini quali sono le richieste? Le richieste sono liste pulite e controllate dall'antimafia. Bisogna dare un segnale di discontinuità, purtroppo le due amministrazioni si chiudono anche con due inchieste di vario livello e di vario gravità, ma due inchieste sui rifiuti che coinvolgono maggioranza e coinvolgono le amministrazioni precedenti. Guardando allo scenario politico, gli schieramenti che si stanno delineando, i candidati che hanno già ufficializzato la loro scelta, voi cosa ne pensate? Ma noi siamo nella fase prima del nono. Poi i protagonisti si scelgono anche con un segnale, cioè dare un grande segnale di rinnovamento. Non possiamo pescare sempre dai soliti nomi che hanno girato tutto l'arco delle forze politiche e poi si ripropongono come se potessero dare un contributo di cambiamento della città. Dai sondaggi della nostra emettente si evince che c'è molta disaffezione alla politica. Capisco la condizione. Il passo successivo però è passare da la giusta lamentela, il giusto voto e giudizio negativo alla classe politica all'impegno. Questo impegno può avvenire in forze sane della città. Noi ci riteniamo una forza sana, non siamo mai stati coinvolti in scandali, abbiamo una sticella alta nel selezionare le persone proprio perché abbiamo sempre fatto fare a loro il casellario giudiziario, i carichi pendenti. Oggi per fortuna è anche legge perché il governo Conte 1 ha realizzato lo spazio da corrotti che ha garantito che questo fosse legge per tutte le forze in campo. Questo nome a cui il Movimento 5 Stelle sta pensando sarà espressione della società civile? Sui nomi vogliamo tenere un profilo basso perché troppo spesso la politica si è ridotta ai soli protagonisti e invece i protagonisti noi riteniamo che siano i cittadini e quindi e siano soprattutto la risoluzione dei problemi dei cittadini. In questo senso proseguiranno le interlocuzioni in città con gruppi, partiti politici, liste? Le interlocuzioni proseguono, ci sono forze sane riteniamo nella città, bisogna aggregarle, bisogna fare in modo che si schierino su un'agenda chiara e se questo accadrà noi saremo insieme a quelle altre forze.